bella ragazzi benvenuti per un nuovo video ciao ragazzi sto utilizzando la carabina perchè è figa no perchè comunque è bello utilizzare una carabina che è fortissima raga questa carabina raga è una bestia raga è una bestia raga ve l'ho detto è una bestia sta carabina ci vuole solo il mirino madonna lollo ci vuole solo il mirino ci vuole solo il mirino ah no ho un pilota di caccia come mi metti come cosa di ah ma sei dietro di me si adesso non più ho alzato un po' la sensibilità raga dall'ultimo video mi trovo mi trovo mediamente bene perchè comunque mi devo ancora abituare quindi ragazzi mi vedete un po' smirare perchè ho alzato la sensibilità perchè più che altro perchè poi quando tornavi in rainbow facevo schifo più che altro più che altro che tornavo quando veramente tornavo su rainbow facevo davvero cagato no vabbè vabbè schifo vabbè comunque come vedete è forte la carabina raga vedete quante kill sto a fare a magico sta facendo un 0-2 madonna è la seconda volta che muovi da uno di caccia da dove bella no vabbè no non è morto eh va il cecchino questo qui era col car col car 98 cioè mi ha pure smirato col car 98 non lo faccio a video eh non lo faccio se devo giocare se devo trovare questi dai bomber invece c'è un'altra minchia il tuo cane Diego proprio bestiale eh minchia ma perché è smirata cioè in realtà non era una smirata è che pensavo di averlo ucciso quindi mi ero fermato non stavo più sparando qua c'è qualcuno vero? no niente sì c'è qualcuno arriva qualcuno ciao Diego fammi ricaricare cioè non ci mettono neanche tanto a ricaricare dietro ma cazzo c'è la seconda volta che gioco da dietro? l'ho ucciso no? ragazzi sentite un rumore sospetto del cane di Diego eh mi dispiace ma esatto è il mio cane il rumore cioè non si può ammazzare in tutti i video in tutti i video no regà stanno un botto la stanno eh si è rimesso la sempre su quel posto la col car 98 si 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 mette sempre la col car 98 quello ma sai che appena spawnano io lo ammazzo eh il car 98 è forte ah è più madò con quella con quell'arma la lì ma quello lì è morto è da dietro c'è con quell'arma con quella con la postazione fissa fuoco d'artiglieria nemico al riparo no 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 perché dovevo ricaricare proprio in quel momento no mi facevo una bella doppia qua Diego ma c'è 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 l'hai sbloccata sta carabina ucciso Diego l'hai sbloccata la carabina si chiama carabina quella lì sì quella lì sì mi sa credo bella lì oh quello lì non ci stava c'è ancora bella livello 3 dell'arma c'è in pochissimo c'è livello 3 dell'arma bella no fuck questo cos'era il type 100 mannaggia è forte il type eh no scop anche ma che falle questi questi hanno super rotto i coglioni si giocava solo così dietro tutte nooo dai ha tirato una laggiata ha tirato una laggiata ma questo si batte una tripla questo si batte una tripla bomber va in killcam si ma fa schifo come cioè se va in killcam eh se va in killcam una cosa del genere farà veramente schifo si è nato in killcam si nato in killcam guardalo ok questo è tutto a me ha tirato una laggiata passetta lì guarda hai visto? beh vabbè mi è rimasto fermo che non si muoveva più vabbè raga comunque io non so se salutarvi ora perchè non so che cosa voglio fare come video se fare una partita o due partite in un video però vabbè quindi non vi saluto neanche che comunque vi goderete questa serie su code e ho trovato il pacchetto ho trovato il pacchettino raga io faccio questo lancio rifornimenti che lo vedete che quindi eeeh non so se comunque voi lo sapete se 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 c'è un'altra parita dopo perchè cioè comunque lo vedete appena appena appurato approvvigionamento nemico e che cazzo e che cazzo non devono riformirsi c'è dai il buco dal culito vai dai non muore Ce n'è una a destra Dove vai tu a destra? Fuck 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 Mi venga ad aiutarla io Eh vabbè fuck c'è un botto di gente Oh Santa madonna Dai Cristo ma come fa? In due colpi Non cazzavo tanto Perché qua ha fatto veramente Non ce l'hanno Cristo Fa vedere Mamma mia la Chris Gun Devo metterla Chris Gun dopo Bellissima No 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 Bella Ah Cristo L'ho sparato prima io e mi ha ucciso lui Dov'è che è madò quello Madò eccolo Minca ho salvato uno proprio veramente in un modo Bella per l'ultimo colpo Minca ma è già finita Minna male questa mappa di merda veramente Non c'è No Crisco Stavo facendo una tripla Bella Bella lì Dovevo per forza arrivare al livello Di trasportare Vai pilota di caccia disponibile No veramente No Sconfitta 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 Mentre stavo facendo il pilota di caccia Stavo mandando il pilota da caccia Che si spara a terra Ah boh raga cioè veramente sta partita è andata proprio male Cioè Sono andato malissimo Stavo prendendo l'aereo di caccia Diego stavo prendendo l'aereo di caccia Mi hanno killato Mentre lo stavo mandando E poi l'altro sconfitta Che bel gioco Ah boh raga per questo video può anche essere tutto Bella